Buongiorno, oggi facciamo una lezione un po' particolare, parliamo di Leonardo da Vinci, ma se fossimo stati in classe io l'avrei fatta in questo modo, vi avrei chiesto di farmi delle domande perché io oggi voglio interpretare per voi l'artista Leonardo da Vinci, quindi avrei chiesto a voi di secondare le vostre curiosità e cercare di capire insieme quali sono le cose importanti da conoscere di questo incredibile artista. Allora, facciamo finta che io veda qualcuno che alza la mano e gli do in modo immaginario la parola. Allora, la prima domanda che sicuramente sarebbe arrivata dai miei ragazzi sarebbe stata dove sei nato, quando? Raccontaci qualcosa della tua famiglia e della tua storia. Allora, io sono nato il 15 di aprile del 1452 in un paesino a Vinci, in una frazione periferica di Vinci, un piccolo paesino appunto tra Firenze e Siena, per darvi l'idea anche oggi, insomma in Toscana, nel luogo che in quegli anni era il luogo di elezione per la cultura. Ma quando si parla di me, quando si parla di Leonardo, è facile usare nei miei confronti parole a volte un po' forti, no? Si dirà quante volte sentirete definirmi un genio. Ecco, vi vorrei proporre altre parole che invece avrebbero potuto essere usate e in parte sono state anche usate nella mia vita, ovviamente adeguando il linguaggio alle parole del 400, a quello del 400, quindi per descrivermi. Perché io sono un figlio illegittimo, avrebbero potuto chiamarmi un bastardo, visto che mio padre era un uomo, era un ricco notaio, si chiamava Ser Piero, era un ricco notaio toscano, riconosciuto, ma le donne con cui si è sposato più volte, ha avuto più mogli, tutte morte, molte morte prematuramente, non riuscivano a dargli un figlio. Non so se per questo motivo o per qualche altro motivo, fatto sta che sono nato come figlio illegittimo da mio padre Ser Piero, il notaio, e donna Caterina, una contadina, una donna povera, di una classe sociale, quindi che era sicuramente non onorevole avere in casa per il notaio. Eppure verrò, quando ero soltanto piccolo piccolo, verrò strappato dalle braccia di mia madre e verrò portato a crescere nella casa di mio padre, che nel frattempo si era sposato con questa albiera degli amadori, che appunto non riuscirà a dargli figli e che morirà prematuramente, ma che mi ha cresciuto come una madre. Resta il fatto che questa donna Caterina, mia madre, la madre vera, resterà una sorta di personaggio nebuloso, una presenza assenza nella mia vita. Vi vorrei raccontare qualcosa di lei tra un pochino. Quindi nasco come illegittimo. Potreste anche accusarmi di omosessualità. Durante la mia vita, nel 1476, sono stato coinvolto in un processo per sodomia. Io insieme a altri due ragazzi di buona famiglia fiorentina, molto in vista queste famiglie, siamo stati accusati di avere sodomizzato, e quindi ho usato pratiche sessuali relative al mondo dell'omosessualità nei confronti di un ragazzo che ci ha accusato pubblicamente. All'epoca la sodomia era un crimine molto grave, ma gli storici dell'arte vi racconteranno che siccome erano coinvolti in questo processo anche questi personaggi illustri, figli di personaggi illustri, siamo stati non assolti, ma come dire perdonati, perché si attesta che il crimine c'è stato, ma c'è stato una sorta di perdono nei nostri confronti. Quindi questo attesta che io appunto ero omosessuale. Della mia omosessualità parlerà anche un personaggio molto illustre, molti secoli dopo, perché Sigmund Freud dedicherà un libro a un mio ricordo di infanzia, si intitola proprio così il libro, Un ricordo di infanzia di Leonardo da Vinci, tramite il quale lo psicanalista, il celebre psicanalista, formulerà una sua ulteriore teoria relativa alla mia sessualità. Il terzo appellativo che potreste usare nei miei confronti è quello di straniero, perché sì, sono nato toscano, mi sono spostato più volte in giro per l'Italia, in particolare dal 1482 io mi sposterò a Milano, ma finirò la mia vita, verrò chiamato nel 1516 a vivere e lavorare in Francia, a Damboise, presso il re di Francia, Francesco I, quindi potevo essere considerato anche uno straniero, quindi state attenti quando usate parole a sproposito per colpire direttamente o indirettamente che sia uno scherzo oppure che sia la verità una persona, perché io, Leonardo da Vinci, avrei potuto davvero essere attaccato sotto molti punti di vista. Vi voglio raccontare ancora qualcosa della mia personalità. ero una persona molto abbastanza scontroso, ero, diciamo che facevo molta fatica a dialogare con le persone del mio tempo, cercate di capire che cosa voglio dirvi. Io ero un grande sperimentatore, un grande studioso, di me si potrebbe dire che ero più uno scienziato che non un artista. Lo testimoniano tantissimi i miei disegni, la vostra insegnante poi vi farà vedere alcuni dei miei disegni e vedrete che io usavo il disegno non soltanto come uno strumento preparatorio in vista della realizzazione di opere d'arte, cioè se voi pensate al disegno pensate a una tecnica espressiva o quantomeno a uno studio preparatorio per la realizzazione di un dipinto o di una scultura. Non è così o non è soltanto così. Nel mio caso disegnare era uno strumento il disegno era uno strumento che io impiegavo per conoscere la realtà perché per me era fondamentale riuscire a guardarmi intorno e capire come la realtà funzionasse. Avevo proprio una logica sperimentale che in fondo porrà le basi per quella che diventerà la scienza empirica del Seicento, di un secolo dopo. vi ho dato la mia data di nascita vi do quella di morte, 1519 l'anno scorso l'hanno appena terminato è stato il cinquecentenario della mia morte quindi mi sono state dedicate mostre a non finire, eventi, spettacoli di tutte di più. Quindi vi dicevo io ero prevalentemente uno scienziato e gli stessi disegni li impiegavo per conoscere la realtà. Certo potete trovare disegni di anatomia ma potete trovare anche disegni che al di fuori dell'anatomia al di sotto dell'anatomia in realtà andavano a studiare la formazione dei muscoli la presenza dei tendini addirittura gli scheletri umani. Io infatti sarò il primo artista a effettuare delle autopsie autorizzate chiedendo appunto l'autorizzazione alla chiesa perché non volevo ovviamente profanare dei cadaveri tutt'altro. Io avevo bisogno però di capire come funzionasse il corpo umano. Ci sono dei bellissimi disegni ad esempio che ho realizzato che mostrano la formazione del feto del bambino nel feto nel corpo di una donna e all'epoca erano davvero disegni avveniristici. Tenete presente che molti dei miei disegni anatomici sono stati impiegati a lungo per secoli anche nei trattati nei manuali di anatomia perché si sono rivelate assolutamente corretti. Ecco, una cosa che vorrei dirvi di me è che io mi definivo omo senza lettere. Questo perché? Perché non avevo voluto imparare a leggere il greco antico. Con la mia capacità di studio con la mia intelligenza posso dirlo senza umiltà avrei davvero potuto imparare il greco facilmente ma non volevo non volevo essere costretto a leggere quello che i greci avevano già scritto sulla natura. In particolare non volevo ricorrere alle teorie di Aristotele. Ipse Dixit l'ha detto Aristotele l'ha detto lui. Questo era il modo che all'epoca anche gli scienziati impiegavano per spiegarsi il funzionamento del mondo. C'erano due possibilità che gli scienziati all'epoca ma anche nel secolo appena successivi il 600 in parte anche il 700 almeno all'inizio che gli scienziati dovranno impiegare. A cosa mi sto riferendo? I due punti i due testi fondamentali due almeno corpus di testi da cui partire erano da un lato appunto i testi antichi quelli greci in particolare i testi aristotelici dedicati allo studio della natura. Aristotele ad esempio diceva che i fiumi sgorgano in cima alle montagne perché l'acqua sale dentro la montagna per arrivare a sgorgare e scendere quindi una sorta di ciclo continuo un po' improbabile ci farà sorridere oggi vi farà sorridere oggi ma all'epoca era quello che si riteneva corretto. La seconda fonte per gli scienziati era la Bibbia. Il testo sacro era il testo a cui riferirsi per capire come funzionasse appunto il mondo e le cose naturali del mondo. Vi faccio anche in questo caso un esempio. La Bibbia sostiene che l'età storica geologica della Terra è di 6.000 anni. Lo diceva 2.000 anni fa lo dice anche oggi. 6.000 anni erano gli anni considerati il tempo della storia della formazione del mondo della Terra. Ecco io se osservavo la stratificazione delle rocce questa tempistica mi sembrava troppo breve per cui lascerò qualche annotazione in cui osservando perché io osservavo la natura spesso disegnavo tagliavo sezionavo riflettevo misuravo perché avevo bisogno di avere risposte ma risposte a misura d'uomo cioè non testi antichi o testi sacri. Questo era appunto il grande impedimento ma anche il mio modo di avvicinarmi è quella che poi diventerà davvero la scienza moderna la scienza empirica. Vi aggiungerei qualcosa che ritengo magari già conosciate. Di me vi racconteranno appunto di questo mio carattere solitario prima mi dicevo Burbero non esattamente Burbero ma diciamo un po' chiuso perché facevo fatica a comunicare con il mio ambiente culturale tenete presente che io poi mi formerò non vi ho ancora detto ma nel 1469 quando avevo 17 anni entrerò nella bottega di Andrea del Verrocchio a Firenze e voi sapete che in quell'esatto momento in quella stessa bottega a Firenze stava studiando un mio celeberrimo collega Sandro Botticelli ecco io e Sandro Botticelli eravamo le personalità più distanti che si possono immaginare ci detestavamo apertamente ma non per una questione di carattere proprio per una questione pittorica direi proprio per una questione concettuale teorica Sandro Botticelli riteneva lo studio della natura totalmente ininfluente non interessante ma come potreste dirmi ma se ci ricordiamo che nella primavera che aveva dipinto aveva dipingerà più di 190 specie diverse di fiori come se fosse un grande catalogo della natura certo ma era un catalogo astratto non era non sono così non è così che appaiono i veri prati fioriti ecco a me non interessava l'apparenza del fiore che lui disegnava o dipingeva perfettamente nelle sue opere a me interessava capire come funzionassero i fiori come i fiori riuscissero a crescere come dalle radici la linfa vitale riuscisse ad arrivare fino al cuore del fiore farlo sbocciare e così via quindi per questo nostro modo diversissimo di intendere della natura noi ci detestavamo anche perché Sandro Botticelli faceva parte di quella che era la cerchia culturale della mia epoca cioè la cerchia medicea e cioè la cerchia neoplatonica immaginatevi io che avevo bisogno di aprire sezionare capire tagliare sporcarmi le mani avevo a che fare con una cerchia che invece riteneva che il nostro mondo il mondo reale fosse una coppia imperfetta del mondo perfetto dell'iperurannio il mondo delle idee il mondo ideale vi ricorderete che Botticelli impiegava tantissimo le linee di contorno io no ma questo ve lo racconterò quando parleremo di pittura quindi entro alla bottega del Verrocchio siamo nel 1476 imparo quello che c'è da imparare ma questo ambiente culturale certo il maestro Verrocchio mi ha insegnato tantissimo la grazia questi suoi personaggi femminili con queste dita così affusolate così raffinate ma era ancora un uomo del 400 io pur avendo vissuto a cavallo tra 4 e 500 ero già proiettato nel secolo nuovo ma le mie idee rischiavano di essere davvero troppo moderne troppo rivoluzionarie e anche rischiose rischiose perché le mie annotazioni rischiavano di andare contro quelli che erano le verità accettate dai testi sacri della chiesa voi sapete cosa era successo a Girolamo Savonarola no? chi si opponeva alle verità della chiesa rischiava di entrare di essere processato dalla santa inquisizione e magari di essere addirittura arso vivo come era capitato a lui per altri motivi ma insomma questo era il rischio culturale allora ecco che vi voglio raccontare qualcosa che forse conoscerete di me vi racconteranno appunto che io ho annotato ho scritto decine centinaia di pagine migliaia di pagine con i miei appunti disegni annotazioni appunti ecco vi diranno che io scrivevo da destra verso sinistra dovrei farlo da questa parte perché voi lo vedete dalla parte opposta in senso contrario allo scrivere alla scrittura comune ci sono alcune motivazioni per cui questo accadeva la prima ero mancino e quindi per non sporcare il foglio con l'inchiostro mentre scrivevo io scrivevo la parola ribaltata per comodità la seconda motivazione è di tipo prettamente caratteriale ero molto geloso di quello che io annotavo scrivevo osservavo il volo degli uccelli osservavo appunto la formazione delle nuvole che portava all'esplosione della pioggia osservavo la formazione delle rocce annotavo di tutte avevo progetti di ogni tipo ed ero molto geloso dei miei testi delle mie osservazioni queste mie pagine verranno poi nominate in seguito i codici i famosi codici di Leonardo oggi sono dispersi nei musei del mondo e hanno un valore inessimabile lo avevano anche per me perché erano i miei diari vi parlerò tra poco anche di qualcosa di curioso relativo a questi diari vi do l'ultima possibilità per spiegarvi perché io scrivessi da destra verso sinistra beh l'avete già intuito in questo modo i miei testi rimanevano assolutamente impossibili da decifrare almeno a colpo d'occhio almeno una prima occhiata e questo mi metteva mi avrebbe messo al sicuro da qualunque possibile intruso da qualunque possibile curioso che magari avrebbe potuto accusarmi di eresia grazie a tutti